Il Premium 200 è uno stimolatore palmare dalle prestazioni simili a quelle della gamma professionale e offre una dotazione molto ampia di correnti per un totale di 534 programmi. Il Premium 200 ha dimensioni compatte ed un design moderno ed ergonomico. Il display retroilluminato consente un facile controllo del menu di navigazione e la visualizzazione di tutti i parametri di stimolazione in tempo reale. La parte centrale è occupata da una grande tastiera in gomma che rende semplice e istintiva la regolazione di intensità sui quattro canali. Il Joypad della macchina permette di navigare in modo facile all'interno dei menu. Questa macchina dispone di quattro canali che possono erogare ben 120 mA di potenza ciascuno sufficienti per qualsiasi applicazione. Molti e importanti trattamenti per uomo e donna che vanno dalla lipolisi al massaggio, dal drenaggio al rassoltamento del corpo, un insieme bilanciato di programmi che aiutano il corpo a ritrovare salute e bellezza. I programmi specifici anticellulite in particolare, stimoliato dalla Globus, la scelta del programma e la sua effettuazione sono facili e sicure. In questo esempio vi facciamo vedere come si seleziona un programma per aumentare la massa e la forza del muscolo quadricipito. Dalla lista programmi selezioniamo l'area, il sesso, poi il programma di forza massimale per gli arti inferiori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti